Fatta panche a Barletta 10.000 vele contro la violenza sulle donne, cambiamo rotte insieme, lega navale Barletta assieme ai centri antiviolenza Ollus, osservatorio Giulia e Rostella di Barletta e Save di Trani, aderisce all'iniziativa nazionale per la lotta alla violenza sulle donne. La veleggiata domenica vedrà idealmente legate da un filo rosso tutte le imbarcazioni in tutta Italia. Ogni imbarcazione esserà un drappo o un nastro rosso. Per questa occasione abbiamo risposto ad una sollecitazione che ci è arrivata da un'associazione nazionale 10.000 vele per la solidarietà, fatta da dei velisti che ogni anno propongono un tema diverso. Quest'anno hanno voluto dedicare la manifestazione contro la violenza alle donne. Una bella veleggiata. E poi le bandiere che sventoleranno è la libertà, la libertà di poter, con la speranza che le donne che si rivolgono al centro antiviolenza possano sventolare e veleggiare come le vele sul mare. È un'iniziativa che nasce dalla nostra sede nazionale. Tutte le sezioni periferiche d'Italia hanno aderito e noi non potevamo che rispondere presente. Sarà una grande manifestazione nel nostro porto non di vele ma di imbarcazioni a motore perché noi purtroppo non avendo pescaggio non possiamo ospitare barche a vela. I nostri gommoni e le nostre barche a motore scenderanno tutte in acqua e innalzeranno sulle loro antenne la bandiera rossa.